Dunque, l'esperienza che io ho tratto dall'aver lavorato a Citizen Report ma anche con altre esperienze è che le micro web tv, oggi di questo parliamo, sono essenziali ma soprattutto per intavolare un dialogo tra le varie forme di media perché il contributo che possono dare loro è ciò a cui la televisione tradizionale non può arrivare. La televisione tradizionale deve ovviamente scendere dal piedistallo, lo sta facendo caracollando in alcuni casi, nel caso di Citizen Report invece lo ha fatto con grande attenzione e con grande rispetto e anche con la consapevolezza di poter offrire qualcosa a questo dialogo e questo secondo me è la condizione essenziale perché si sviluppi una nuova forma di conoscenza, si formino delle coscienze e dei telespettatori o dei navigatori di internet che sono affamati di informazione, più coscienti, cioè che conoscano i limiti del mezzo informazione tramite internet e che sappiano mobilitarsi per verificare che ciò che accade su internet in realtà corrisponde alla realtà. Un consiglio ai microeditori quindi? Dunque, il consiglio ai microeditori è quello che sta uscendo in questi nostri incontri. Uno, non scimmiottare la televisione tradizionale perché internet è un terreno di sperimentazione eccezionale conoscere però gli strumenti e le metodologie di lavoro della televisione tradizionale per superarle quindi quando si conoscono una serie di vincoli si è più in grado di superarle sapendo cosa si fa e soprattutto nel caso in cui stiamo parlando di giornalisti a dotare ciascuna informazione che si porta su internet di quel corredo che può servire a tutti per verificare la sua correttezza, che le fonti siano state verificate, da dove è tratto. Se devo filmare per esempio l'esterno di un istituto dove si sta misurando la radioattività dei proiettili all'uranio impoverito beh insomma io devo dare la possibilità a uno che segue quel servizio di capire che effettivamente quel servizio viene svolto in quel luogo perché se vedo un esperto che parla con un pseudo contatore Geiger è ovvio che io a quel punto non so se quello è un attore se il proiettile è davvero un proiettile e così via. Quindi dotare di strumentazione per verificare la realtà di ciò che si dice. L'esperienza di UDEM come è stata accolta dal popolo, dalla popolazione di internet soprattutto e anche da quella nazionale? Dunque è un'esperienza complessa perché ovviamente lì siamo in un terreno in cui un partito politico ha chiesto al territorio diciamo così per sintetizzare, di portare a conoscenza del partito una serie di tematiche attraverso uno strumento complesso come quello del video perché è vero che noi su internet sappiamo che ci sono tanti video eccetera ma nel momento in cui noi dobbiamo rappresentare un tema complesso attraverso un video beh insomma comunque il lavoro da fare è tanto. Per cui è chiaro che è un esperimento molto ambizioso perché un utente qualunque per portare a conoscenza di un partito, di un interlocutore politico una certa tematica a due strade UDEM o YouTube. YouTube è il dialogo universale e UDEM è un dialogo molto circoscritto ovviamente con una caratteristica di identità politica molto precisa e così via. Quindi è come l'ha presa il popolo? L'ha presa diciamo bene nel senso che lì c'è un forum su cui si può discutere è ancora diciamo così da sviluppare però un vero e proprio dialogo tra l'editore diciamo e i contributori. È una forma di dialogo che va sviluppata, va incrementata e c'è ancora un po' da fare però comunque è interessante. Come sta andando questo meeting fino a questo punto? Ci sono stati spunti interessanti? Ci sono spunti interessantissimi in questo meeting, ci sono persone interessantissime perché io credo che poi alla fine di tutto internet che cosa ci porta? Ci porta alle storie delle persone, a conoscere le persone. Io posso filmare un evento eccetera ma in realtà quello che a me interessa è sapere perché quella persona era in quel momento, su quel luogo, quando è accaduta quella determinata cosa. Quindi la possibilità di conoscere dal vivo la storia delle persone che si mettono in gioco su internet per fare una micro web tv, per fare informazione, per fare intrattenimento è forse una delle esperienze più interessanti ed entusiasmanti.